All'ombra delle pale di San Martino, nella Valle del Vanoi, dal 7 al 9 settembre, tre giorni dedicati al re dei boschi, il Porcino. Festa delle Brise 2012, decima edizione. Con mercatini, mostre, escursioni, degustazioni, concorsi e spettacoli. In Valle del Vanoi, dal 7 al 9 settembre, Festa delle Brise. La tua vacanza e informazioni su sanmartino.com